Sono 81 gli arrestati e circa 700 i money muls individuati in Europa per frode informatiche nell'operazione EMMA, che ha coinvolto diverse forze di polizia europee, tra cui il Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni, con il coordinamento di Europol e con il continuo supporto di Eurojusta della Federazione Bancaria Europea. I cosiddetti muli informatici sono i destinatari delle somme provenienti da frode informatiche e campagne di pishing. Oltre che in Europa molti avevano collegamenti oltreoceano come in Brasile, Nigeria e Qatar. I muli sono elementi assolutamente indispensabili alle organizzazioni criminali dedicate alle frode informatiche, in quanto si tratta di persone che offrono la propria identità per l'apertura di conti correnti o carte di credito sui quali vengono poi accreditate le somme frodate ai neri cittadini attraverso varie forme di aggressioni criminali a sistemi di home banking e monetica. Queste somme vengono successivamente bonificate secondo dirette e precise indicazioni, secondo cui il money muli trattiene una piccola parte per il servizio offerto, versando tutto il resto su conti nella disponibilità delle organizzazioni aperte anche all'estero.